Parte, pallone dentro, una mischia, lontana la difesa, poi Verone, vede via il pallone Adriano, contro piede, uno contro due, attenzione all'imperatore, salta al primo, attenzione, è uno contro uno, attenzione, è uno contro uno, attenzione, cerca di saltarlo, e salta, arriva al secondo un tiro, e gol, 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 Veroio! Ma che gol ha fatto! Minuto undici! Ma che guardate che ziole, guardate, prende palla, si beve Bertotto, va uno contro uno, lo va a rincorrere gli okulowski, uno contro uno, lo mette a sedere, mette a sedere il secondo, incrocia, ed il Santos può solo raccogliere, tutti i piedi anche a casa, l'imperatore, ne ha già fatti due, e siamo a quota 5.